E' ora di parlare appunto dei gusti e la domanda di rito di Milano congelato è quando entri da la terza qual è quel cono, coppetta che non puoi non assaggiare nel senso quali sono quei gusti che decidono essere, insomma Certo, parlo del mio gusto perché da sempre sceglievo quel tipo di gusti Diciamo che la crema all'uovo per me è il gelato, la crema tradizionale che io chiamo crema della norma è fatta rigorosamente con una pastoralizzata a bassa temperatura, cioè a temperatura più bassa la pastoralizzata latte per non far cuocere le uova, il rosso luogo, non farlo diventare un uovo strapazzato è fatto con le uova di galline, libere, biologiche e quindi poi da quello nasce la famiglia delle creme all'uovo se vuoi tiramisù, caramello salato fatto col caramello bretto che faccio a mano io Perciò diciamo il primo gusto? Il primo gusto è la crema all'uovo Il gusto è il pistacchio Pistacchio, salato o dolce? Dolce, salato oppure con sale e pepe Scegli nemmeno? Sale e pepe Sale e pepe Sì E' un po' meno salato perché c'è il pepe che gli dà Ok, ok Allora entri dall'anteneve e se vuoi insegnare il top del top vai su La crema della nonna, giusto? E il pistacchio sale e pepe e il cioccolato con neve Ho con neve Grazie 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 a tutti.